Da alcuni anni lavoro con la Ciambro Doc, allo sportello, il mio lavoro consiste principalmente nel svolgere traduzioni in occitano, nel campo della letteratura, del giornalismo, di vari articoli che vengono fatti nelle valli, sia dall'italiano che dall'occitano, sono di madrelingua, vengo dalla Valmaira e accanto a questo svolgo anche l'attività di musicista con il gruppo Blu Les Arts, con il quale facciamo vari spettacoli, da ballo, ma anche spettacoli teatrali, di memoria sul territorio.